Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Puro Biocosmetics. Oggi sono qui per introdurvi la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Immaginate la natura, selvaggia, armoniose simmetrie, ogni colore deriva dalla natura illuminata dai raggi del sole. La nostra collezione è ispirata alle tendenze viste in passerella. Si amplia così la nostra gamma di eyeliner ed ombretti. L'ombretto numero 17 è un bellissimo verde prato, vivace e vibrante, bellissimo per creare sfumature ma anche piccoli dettagli. L'ombretto numero 18 è un giallo indiano che si fonde perfettamente con le tonalità calde. Ma non esitate ad utilizzarlo per vivaci contrasti. Il prodotto è disponibile sia nel packaging che nell'ecologico refill. Il nuovissimo packaging magnetico vi permetterà di sostituire l'ombretto una volta finito o di inserirlo nella vostra palette. La matita celeste è ottima per il look da giorno, ma anche come punto focale per dei look da sera. La matita nude è un passepartout, ottima per ingrandire l'occhio se applicata nella rima interna, utilizzata sul viso permette di creare dei punti luce soft, bellissimo sotto l'arcata sopraccigliare e per illuminare il contorno labbra. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate e fateci sapere cosa volete assolutamente provare. Ciao e al prossimo video!